Una moto, molti caschi e almeno 20 razzie nelle case e nei negozi di Mezzo Veneto. Ma Douglas Gabrieli e Paolo Massaroni hanno messo a segno il loro ultimo colpo. E' proprio questo il nome della brillante operazione condotta dai carabinieri di Bassano del Grappa e coordinata dal PM Alessandra Bloch della Procura di Vicenza, che ha permesso di arrestare i due italiani di origini sinti residenti nel Vicentino. E' durata circa tre mesi, anzi quattro mesi, dove sono stati due persone, due persone italiane ma di origini sinti, sono state riconosciute come autori, autrici di circa 20 colpi tra furti e rapine, furti in abitazione e in esercizi commerciali da agosto ad oggi. Massaroni e Gabrieli sono ritenuti responsabili di una ventina di incursioni nelle province di Vicenza, Treviso, Venezia e Padova, dove si spostavano con una motocicletta Honda di grossa cilindrata. Modus operandi consolidato direi, Gabrieli rimaneva alla guida della motocicletta, mentre il Massaroni scendeva, colpiva e poi raggiungeva velocemente il compagno per poi darsela a gambe. I due arrivavano a fare anche tre o quattro furti di fila, spostandosi rapidamente da un negozio a un'abitazione senza soluzione di continuità. Preferivano agire attorno a mezzogiorno e nel corso degli ultimi mesi hanno messo assieme un bottino considerevole. Eccoli in azione mentre forzano alla porta di un'attività commerciale con poche e decise mosse. Alla fine sono stati incastrati dai filmati di sorveglianza di molte telecamere, da testimonianze e dalle attività investigative.